Siamo con l'architetto Franco Valente qui nella cripta di Trivento. Si tratta di un'architettura importantissima che in pratica fa capire quanta importanza abbia avuto il Molise nell'Alto Medioevo e quanta importanza abbia avuto addirittura prima dell'intervento dei Romani, perché qui si respira aria romana nei Capitelli che sono addirittura del III-II secolo a.C., ma si respira Alto Medioevo perché questa architettura è riconducibile con assoluta sicurezza proprio agli anni a cavallo del Mille. Trivento è la città più anomala nel quadro delle città romane e questo fa capire che qui c'è stato un insediamento preromano che addirittura non è stato sconvolto dai Romani. Possiamo immaginare che la leggenda di cui spesso si parla, secondo cui sarebbe stata fondata dai Greci che hanno lasciato una traccia consistente nel nostro territorio e la cripta di Trivento ne è un esempio tangibile. Questa cripta era interamente affrescata, ci sono due affreschi, uno di San Lorenzo che poi vediamo e questo con una crocifissione molto molto particolare che dovrebbe essere dei primi del nuovo millennio, 1100 grossomodo, c'è la rappresentazione della Madonna, San Giovanni e poi questo strano personaggio al lato che molto probabilmente è San Benedetto. Qualcuno dice che sia Sant'Antonio Abbati, io sono convinto invece che si tratti di San Benedetto perché questa è una chiesa di impianto benedettino poi trasformata nel tempo. E Don Mimì Fazzioli fa una considerazione importante su queste tacche che sono qui presenti perché c'è una storia molto complessa sui cosiddetti fraticelli dell'obbedienza che furono rinchiusi in una cisterna, si dice, di Trivento, siamo agli inizi del Trecento e furono tenuti prigionieri, siamo nel periodo della Inquisizione, perché il Vescovo di Trivento li condannasse a morte. Invece il Vescovo di Trivento si rifiutò di fare questa condanna. Ma noi sappiamo che questi fraticelli sono rimasti per una trentina di giorni in una cisterna. Molto probabilmente la cisterna sarebbe la cripta, il luogo dove furono tenuti i prigionieri proprio nel luogo in cui il Vescovo esercitava la sua funzione. E sarebbe interessante riuscire a capire se le tacche segnano i giorni che furono passati dai fraticelli all'interno di questo luogo. Quindi altri misteri si aggiungono a quelli che già avevamo in precedenza.